I sogni io mi vedo quasi sempre di spalle con i capelli e più male, così come ero 20 o 30 anni fa. E lei, volenterosamente, come tutto ciò che fa, incomincia a leggere. Sono tanti anni che non facciamo più l'amore, ma sappi che io ti sono rimasta sempre fedele. Chi sono queste persone? Non lo so. Non lo so. Ma questo è il mio appartamento, cos'è un deposito il mio appartamento? Non lo so. Quando avevo 18 anni, vedo che mi conosce, c'avevo i capelli lunghi fino a qui. Niente. Era una canzone molto bella, che faceva piangere. Faceva così. Così, ecco. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.